POMODORO Lo stabilimento di Ferrara Food, sorto ad argenta grazie ai fondi che la Sfir ha ricevuto per la riconversione dello zuccherificio di Ponte Lago Scuro, lavora circa 170.000 tonnellate di pomodoro all'anno, 2.500-3.000 al giorno. Da alcuni anni nello stabilimento viene trasformata anche frutta, pesche, pere e mele. Sentiamo da Roberto Valentini, responsabile dell'approvvigionamento Materia Prima, da dove arriva il pomodoro che viene lavorato. Principalmente dalla provincia di Ferrara e dalla zona del Mezzano, che per noi corrisponde circa un 70% dell'area geografica di nostra pertinenza. Ma aggiungo anche che ci allontaniamo anche dalle zone del Mezzano, spontandosi nella fascia litoranea, nella zona delle sabbie. Che tipo di prodotto finale esce da questo stabilimento? Principalmente cubettati, polpe e passate di pomodoro. Inizialmente questo stabilimento, quando era nato, era nato per produrre concentrate, ma i concentrati di pomodoro non ci pongono sul mercato europeo in una posizione tanto favorevole. Noi non siamo competitivi per questa tipologia di semilavorato e la nostra produzione si è spostata sui cubettati, perché l'Italia, sul mercato europeo, è leader di questo segmento. E qui ne produciamo un 70-30% della nostra produzione, quindi un 70% di cubettati e bassi tenori BRICS a discapito del concentrato per il remanente 30%. Quindi diciamo esportate soprattutto, quindi fuori dall'Italia? Certamente sì, i nostri mercati sono il nord Europa, principalmente la Germania, l'Olanda, il Belgio, l'Inghilterra. Questo è il mercato recettivo per il pomodoro. L'Italia è leader, cioè è il secondo produttore mondiale dopo la California, quindi questo insieme alla nostra tipologia tipicamente italiana ci fa un'ora e ci pone bene sui mercati mondiali. Veniamo a questa campagna 2014. Come è iniziata? Sappiamo che purtroppo le piogge hanno condizionato anche questa cultura, come tante altre. La situazione qual è? La campagna non è purtroppo cominciata bene perché come sappiamo la primavera fredda e l'inizio estate e il proseguio dell'estate piovoso non ci ha posto nelle condizioni ottimali per le nostre raccolte. Abbiamo avuto le difficoltà tipiche della raccolta con la pioggia, abbiamo rallentato ma non abbiamo mai fermato l'impianto. Quindi questo per noi è un grosso vantaggio, siamo riusciti ad approvvigionarsi grazie al nostro bacino vicino e anche un po' differenziato, lo ricordavo prima e noi siamo presenti anche nella zona ritoranea, quindi nelle sabbie e questo ci consente di raccogliere anche in tempi molto vicini alla pioggia. Quindi questo è molto strategico per il nostro impianto, quindi grazie alla tipicità della provincia, del nostro territorio e dei terreni ci consentono comunque di spaziare molto tra quelli che sono i cantieri di raccolta. Voi qui di solito quanto raccogliete per ettaro? Le produzioni quali sono? Sono molto svariate, parliamo di una media che si attesta attorno alle 70 tonnellate, però andiamo da anche produzioni che superano le 100 tonnellate nelle zone sabbiose e ovviamente con meno brix, perché dove abbiamo i terreni sciolti il brix è più basso, ma il prodotto comunque va benissimo per cubettare, per fare la polpa. Mentre negli altri terreni dove si produce meno, in termini di peso, abbiamo un brix più elevato e quindi anche un prezzo relativamente superiore. Quest'anno, a causa appunto della pioggia, ci sarà un calo del 15% rispetto alle produzioni medie. La qualità è buona sul prodotto raccolto tempestivamente, mentre si abbassa su quello raccolto in ritardo, sempre per via del maltempo. Qual è la situazione del mercato al momento? Dunque, veniamo dall'annata 2013, questa è un'annata abbastanza scarsa dal punto di vista della produzione e ciò ha fatto sì che le scorte di semilavorato che stazionavano presso le industrie simili alle nostre si sono esaurite. Quindi noi partiamo da una situazione azzerata con la produzione nuova di quest'anno 2014 e il mercato a questo proposito è recettivo, sta aspettando i nuovi prodotti. Noi per la prima volta cominciamo a rivolgere un'attenzione anche ai mercati lontani dall'Europa, abbiamo iniziato con qualche cliente giapponese, per la prima volta anche con la Cina e i paesi dell'est siamo in fase di studio. Però c'è buon interesse, c'è ottimo interesse, sempre cavalcando il marchio Italy, Made in Italy. Grazie 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 Grazie